Un passo avanti cruciale è stato fatto nei colloqui per la ripresa delle esportazioni del grano tra i rappresentanti dell'ONU, dell'Ucraina, della Russia e della Turchia di Istanbul. L'ho detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il ministro della difesa turco, Ulusia Kahar, ha detto che nella riunione è stato concordato di istituire un centro di coordinamento a Istanbul. Trovato un'intesa su dettagli tecnici come controlli alle entrate e all'uscita dai porti e su come creare corridoi sicuri per la navigazione. La prossima settimana un nuovo incontro tra delegazioni ucraine e russe in Turchia e soddisfazione è stato espressa anche dal presidente Zelensky. Grazie per la visione!